Contiguità con la Camorra. Il Tar di Lecce ha sospeso la giudicazione della gara d'appalto per la raccolta dei rifiuti urbani a Sandonaci assegnata alla Ecologia e Servizi Italia con sede a Scafati in provincia di Salerno per collusioni con la criminalità organizzata. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha così accolto il ricorso presentato dalla ditta seconda classificata, la Ecotecnica SRL. La questione, secondo l'ordinanza del Tar, passa adesso alla stazione unica appaltante, ovvero la provincia di Brindisi. E quest'ultima, infatti, che con determina dirigenziale del 15 febbraio 2022 aveva disposto la giudicazione dell'appalto biennale di raccolta dei rifiuti nel comune brindisino alla Ecologia e Servizi Italia. Un ex amministratore della ditta campana è stato recentemente arrestato in un'operazione condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli e risulta che il patrimonio e il capitale sociale della Ecologia e Servizi Italia siano stati sottoposti a sequestro penale il 28 febbraio scorso. La stazione unica appaltante, ovvero la provincia di Brindisi, non era a conoscenza di indagini e sequestri. I giudici del Tar rilevano che nel merito dovrà essere proprio la provincia a decidere. Comunque il servizio di raccolta rifiuti a Sandonaci proseguirà normalmente poiché il contratto con la nuova ditta non era stato ancora stipulato.